Volendo accostarsi alla conoscenza di Wole Shoinka, protagonista della diciottesima edizione di Dedica, darei dei suggerimenti di lettura. Naturalmente sono suggerimenti soggettivi. Di Shoinka è splendido il teatro, ma non tutti amano leggere il teatro, magari preferiscono vederlo. Allora mi terrei sulla scrittura di tipo autobiografico, in particolare su tre libri che segnano tre tappe dell'esperienza umana e culturale di Shoinka. Tre libri che sono tre stagioni della vita di Shoinka. Il primo è Ake, gli anni dell'infanzia. È un romanzo autobiografico. Shoinka racconta i primissimi anni, i primi undici anni della sua vita, vissuti nel villaggio di Ake, dove suo padre dirigeva una scuola. È la scoperta della cultura arcaica della sua gente, i miti, le concezioni animistiche della vita, i rituali per proteggere l'esistenza dai rischi. E tutto questo si incrocia però con il cristianesimo di sua madre, sua madre che lui chiamava la cristiana folle per il rigore e l'integralismo con cui viveva questa sua fede cristiana. Però è una storia di iniziazione soprattutto per un altro motivo, perché Shoinka racconta la sua scoperta dei libri, la sua scoperta del piacere di conoscere, di sapere. E lo racconta fino al momento in cui questo diventa spinta a competere per entrare nella buona scuola, la chiama lui la buona scuola anglosassone inglese, da cui partirà poi il suo cammino verso quello che sarebbe diventato nel mondo della cultura. Il secondo libro esprime un altro, rappresenta un altro periodo della stagione di Shoinka. Il libro è L'uomo è morto e racconta gli anni della scoperta dell'impegno politico. Shoinka è rientrato in Nigeria dopo anni vissuti in Inghilterra per studio e lì c'è stata la sua scoperta del teatro e si trova immerso in una realtà caotica. La Nigeria ha appena avuto l'indipendenza, ma questo non significa certo pace, significa conflitto, caos, violenza. Sta per scoppiare la guerra civile e Shoinka si impegna per una battaglia ideologica, per la conciliazione tra le varie etnie in conflitto e per il bando delle armi. E allora viene imprigionato senza processo, saranno quasi due anni di prigionia durissima. In questo libro Shoinka racconta la scoperta di quello che l'uomo è capace di fare all'uomo. Il desiderio di fiaccare la personalità, il carattere di una persona attraverso le vessazioni grandi e piccole. Lo fa con uno sguardo quasi da entomologo. La cosa più importante però che a me sembra che racconti è la capacità di trovare in sé quelle risorse per opporsi a questo, attraverso anche piccoli espedienti magari, ma tutto quello che lo aiuta, lo aiuterà a reggere a questa esperienza terribile. Perché dice Shoinka, l'uomo muore ogni volta che non si oppone alla tirannia, ogni volta che tace di fronte alla tirannia. E Shoinka non ha taciuto. Il terzo libro che suggerisco è Sul far del giorno. È bilancio di una vita, libro di memorie, un libro fluviale, sono 700 pagine, però non bisogna lasciarsi scoraggiare. A parte il fatto che si può sempre ricorrere al suggerimento di Pennac nel Decalogo del lettore, cioè il diritto di saltare pagine. Io però non lo consiglierei. Consiglierei di leggerlo tutto questo libro perché alla fine si sa parecchio di più di quello che si sapeva in partenza sulla storia dell'Africa. E si capisce veramente il personaggio Shoinka. È un libro dall'andamento temporale anomalo. Si parte dal rientro in Nigeria nel 98 dopo il secondo esilio per motivi politici di Shoinka. Ecco, questo viaggio di ritorno suggerisce poi alla memoria il ricordo di tanti altri viaggi. Il viaggio è un tema archetipico per Shoinka come per tanti altri. Il viaggio è esperienza, è cambiamento, è occasione di crescita. Shoinka dice a proposito del viaggio, quella che è la condizione permanente dell'eroe shoinchiano, non sento mai di essere arrivato, anche se giungo alla fine di un viaggio. E tra i tanti viaggi c'è per esempio quello verso Stoccolma per ricevere il premio Nobel, che comporta anche una digressione che riguarda l'Italia. Ci sono tanti temi, l'amore, l'amicizia, la morte. La strada, altro tema ricorrente in Shoinka che ha ispirato anche un testo teatrale. La strada che è metafora della vita perché è la situazione, l'occasione in cui si può essere da soli per cercare se stessi o in compagnia. Ecco, il tema del viaggio in compagnia, della strada in compagnia, gli richiama alla memoria i tanti amici, i tanti compagni di strada che ha perso per via, vittime della violenza, delle dittature che si sono succedute in Nigeria. E questo porta Shoinka a sentirsi solo, a sentire di aver perso punti di riferimento. Ma questo non significa scoraggiarsi perché Shoinka è un combattente, tant'è vero che si identifica con la divinità Yoruba Ogun. Ogun, Dio guerriero, Dio della strada frenetica e della solitudine creativa, del richiamo poetico e del grido di battaglia. E in questo trova l'energia per riprendere il cammino, per scoprire ancora meraviglie della vita. E chiudo con la citazione di versi da cui è tratto il titolo di questo libro. Viandante, mettiti in strada sul far del giorno. Ti garantisco meraviglie in quell'ora santa.